Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Aurora Ramazzotti nasce a Milano il 5 dicembre 1996. Dalla nota showgirl svizzera Michelle Hunziker e dal cantante Eros Ramazzotti, cresce a Milano, dove frequenta l'International European School, diplomandosi nel 2015. I suoi genitori si sono separati nel 2002, dopo quattro anni di matrimonio ed entrambi si sono successivamente risposati e hanno avuto altri figli. Aurora Ramazzotti è figlia di due star del mondo dello spettacolo, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La coppia si separa quando la primogenita è molto piccola, ma fortunatamente sono sempre stati presenti nella vita della piccola Aurora, non facendole mai mancare nulla. Su un possibile ritorno di fiamma, Aurora commenta, ma quale tifo? Il nome li ricordo neppure insieme? Non ho ricordi. Ho delle foto, bellissimi. Sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi. Ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda. Aurora Ramazzotti fa parte di una grande famiglia. Infatti, nel 2011 Michelle conosce l'imprenditore Tommaso Trussardi, amministratore unico dell'omonima casa di moda. Dal loro amore nascono le due sorelle di Aurora. Sole nata nel 2013 e Celeste nata nel 2015. In un'intervista al Corriere della Sera, Tommaso esprime il suo pensiero sulla figliastra. Ho sempre cercato di pormi come amico, fratello maggiore. Sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono rarefatti. E questo? Mi dispiace. Mi auguro che tutto si sistemi. Aurora, invece, ammette. Tommaso è entrato in una famiglia complessa già di suo. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso. Noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse. Ma io li voglio molto bene. Grazie a tutti.